devo vedere se me la ricordo non mi piace non mi piace no a dire la verità era così però eh dovevamo scendere da quello lì finire qua fare quello lì in salita perché dovevamo fare questo e poi uscire in prima sono e dopo mi faccio male così era eh quella giusta è un po' contorta ma rifalla 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 allora parti da qua bravo Sergio bravo eh non è facile eh sì ma l'ho fatta sia per anche per la versione più facile cioè due versioni una va allarghi vedi arrivi giù l'allarghi di più e vai su dall'altra parte è giusta è giusta no ma ho sbagliato qua era diritta l'ho fatta troppo difficile no l'ho fatta troppo difficile io era giusta come l'ho fatta è mica il cammello per niente questa qua è minchia se scivola così in mezzo qua no non tocca le pedane no qua scusami è qua che sbaglio vabbè vai su di qua allargalo un po' quello allargalo di qua se no non ci giri dentro bravo basta va bene va bene che convinzione brutta sei arrivato lì come io vado o non vado non così adesso con i funghetti di qua mi piace se sono i funghetti di là non mi piacevano non ci sono i funghetti di là non mi piacevano no